Si aveva spezzato proprio a questo giovane Ma ha fatto lo shampoo con l'acido muriatico Lo deficiente Non so' capace di dire questo quanto lo porto sopra lo cazzo Sempre la solita storia Ma a guardare lo ciuccio non si combina niente 7 più 8 fa 50.000, ma è? Vedete voi, dociate 1 per 4.400 fa 350 89 più 10 quanta fammi? Non c'ho usato io Come? L'affragitito Benevoco Piso stueto Facevo così, cremadina membriaco Così, vedoci lo zecco